Ma cos'è successo? Ha trovato lavoro. Ha trovato lavoro. Ha trovato lavoro. Ha trovato lavoro. Un lavoro adeguato. Un lavoro adeguato. Adesso è sistemato, ma che uomo fortunato. Ha trovato un lavoro, basta andare al mattino e sfungare il cartellino, non ci deve più pensare, non lo deve più cercare, perché, 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 c'è da lavorare.